e' che è che mi fa solo faccio il mio qua aspetta, vado a tutti i due papi di rinforzare no no, che mi devi sottare ma cos'è la salita? la salita non per dirti seppure il video pitta il barco eh ma, quanto ti vuoi? no 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 vai 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 bubu no vai bubu lo fermati vai 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 no 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 e vai 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 Grazie.